ciao a tutti allora oggi vi portiamo in una città stupenda delle Marche che a me piace tantissimo e spero che vi piaccia anche a voi vi faccio vedere qualcosina e la città è Ascoli Piceno guardate dopo vi facciamo vedere il ponte dove dobbiamo attraversare abbiamo parcheggiato al parcheggio Torricella poi c'è il ponte c'è gli ascensori che ci portano su al centro e facciamo un prascoli e abbiamo beccato che siamo venuti e c'è Ascoliva che sfiga questo è il ponte che dobbiamo attraversare guardate che bello qui c'è il fiume non so che fiume sia guardate che bello guardate che bei palazzi che spettacolo guardate quanto è bella questo è il piazza Arrigo guardate questo è il battistero il comune questo qua di fronte a noi questa è cattedrale di Ascoli cattedrale di santa emilia piazza Arrigo Arrigo no piazza Arrigo non mi ricordo più questa è Ascoliva grazie a tutti è bellissima anche perché è tutta pedonabile piazza del popolo quello del bar della famosa Anisetta Meletti il bar più famoso di Ascoli grazie a tutti 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 ecco guardate adesso vi faccio una panoramica Piazza del Popolo. Guardate quanto è bella. Questa è tutta pedonale e lì c'è la torre con il pene. Le maestranze che non venivano pagate, siccome non la pagavano ci hanno fatto un pene in cima alla torre. Non si può non fare un video alla Quintana di Ascoli. La Quintana di Ascoli Amici delle spettatori. Ricordate acqua fra sassi. Mamma mia, Puzzi da Nisetta Meletti da un chilometro. Umbriaco. Guardate che bella Piazza del Popolo di sera. Guardate che spettatori. Guardate che bella. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.